Tanto spostiamoci in un'altra terra dalla grande musicalità, la Campania, per parlare un dialetto napoletano che ha incantato e continua ad incantare tutti, fa sorridere, fa piangere, diventa teatro vita e a volte diventa anche teologia. Spieghiamoci meglio, c'è un sacerdote che dopo una lunga fatica, una fatica che dura dieci anni ha creato la Bibbia, ha tradotto la Bibbia in napoletano. Sulla costiera sorrentina, grazie anche a un giovane editore, è uscito questo piccolo miracolo, cinque volumi della Bibbia in napoletano. Vediamo. L'amore è chi ne pacienza e chi ne accortenza, perché chi va bene o veramente non è mai geloso. Non tutti forse riconosceranno l'inno alla carità attratto dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Il testo era cotto in uno dei cinque volumi della Bibbia, tradotta in napoletano da Don Matteo Coppola e pubblicata dall'editore Longobarde di Castellammare di Stabia. Se io ho tradotto la Bibbia in napoletano è perché c'è stata una grande attinenza tra la lingua ebraica e la lingua napoletana. La lingua napoletana non ha concetti astratti, come l'ebraico non ha concetti astratti, per cui rende molto di più e ci sono delle espressioni napoletane che è difficile magari tradurre nella lingua italiana. Una proposta così specifica legata a una traduzione in lingua napoletana dei testi sagri mi ha un po' spiazzato in un primo momento, però l'ho voluta cogliere proprio come sfida, perché ho capito che da un diverso punto di vista però andava nella direzione della nostra vocazione, nel senso che rispetto a una globalizzazione complessiva in tutti i settori, anche in quello dell'arte e della cultura, un'attenzione al territorio anche attraverso la riscoperta, la riappropriazione della lingua madre diventava interessante come operazione culturale. La traduzione del Vecchio del Nuovo Testamento in napoletano non rappresenta solo un enorme sforzo culturale, ma una impegnativa opera pastorale che ha già avvicinato moltissimi alla lettura e alla conoscenza delle sacre scritture, attraverso la musicalità e la dolcezza di una lingua senza tempo. E come sacerdote, naturalmente, uno non può predicare se uno non conosce la sacra scrittura. E la Bibbia, quindi, è il libro più bello e più grande che ci possa esistere, tante vere che ha detto Gianfranco Ravasi, che è stata tradotta in 2450 lingue e non poteva mancare la lingua napoletana. Il grande Sant'Omasa d'Aquino, quindi nel 1573, nella chiesa di San Domenico a Napoli, spesso e volentieri parlava nella lingua napoletana. Il concilio di Trento, nel 1563, nella 22esima sessione, aveva messo che bisogna tradurre anche nella lingua pernacola, quindi la Bibbia. Il concilio Vaticano II, praticamente, ha detto che cura con materna sollecitudine che si facciano delle traduzioni in ogni lingua, quindi rispettando naturalmente la sostanza. La lingua napoletana oggi è una lingua ancora estremamente viva. È un dialetto, quello napoletano, molto utilizzato nel linguaggio comune. E quindi il tentativo di canonizzarlo attraverso la traduzione di un libro così importante come può essere quello delle Sacre Scritture, diventa ancora una volta un'occasione per poter riappropriarsi di una tradizione culturale del territorio. Una curiosità rende quasi giustizia, se mai fosse necessario, la traduzione della Bibbia. In napoletano il futuro dei verbi non esiste, perché nella lingua dei napoletani il futuro è nelle mani di Dio.